Dopo aver ottenuto il nulla osta, le salme di Walter Corniati e Maria Teresa Pieri arriveranno oggi a Biella. Venerdì molto probabilmente si celebreranno i funerali. Il bilancio preventivo di costato destina 900.000 euro per investimenti e manutenzione. Il Comune non ritoccherà l'aumento delle tariffe. Il Pan, elemento di eccellenza, aveva necessità di una legge che lo tutelasse sia nei confronti dei panificatori che dei consumatori in la regione lavarata. Una grande attenzione da Amnil Biella verso le aziende che assicurano sicurezza ai loro lavoratori. Un bando consentirà di attribuirne un giusto riconoscimento. Parte da oggi la campagna abbonamenti per Palla Canestro Biella che cercherà di portare al palazzetto la maggior parte di tifosi e rilanciare il progetto del grande basket. Ancora un buongiorno a tutti voi dalla nostra redazione per questa edizione in diretta della telegiornale. Mentre in provincia c'è un forte sconcerto e dolore per la tragedia avvenuta nel Gran Paradiso. Vittime Walter Corniati e Maria Teresa Pieri. Con ogni probabilità oggi pomeriggio dopo aver ottenuto il nulla ost dal jeep le salme torneranno a Biella. Il recupero dei corpi non è stata un'operazione facile. Ci sono state molte difficoltà legate alla posizione in cui le due vittime sono cadute. Gli uomini del soccorso da quando li ha identificati fino al loro recupero ha dovuto lavorare anche in condizioni di pericolosità. Hanno dovuto anche scavare un lungo tunnel nel ghiaccio per poterli raggiungere. Probabilmente si celebreranno i venerdì i funerali nel biellese delle due vittime. Un uomo di 29 anni è stato arrestato per aver aggredito un poliziotto. I fatti sono avvenuti ieri sera intorno alle 23.30 all'ospedale. In quanto la polizia era intervenuta sul posto perché era stata segnalata la presenza di un individuo che inveiva contro gli operatori sanitari. Invitato ad uscire dalla struttura il giovane ha iniziato una collutazione con un'altra persona sedata dagli agenti di polizia. E mentre i poliziotti cercavano di portare la calma il 29enne ha colpito con un pugno al volto uno degli agenti provocandogli lesioni giudicate guaribili in sette giorni. Per il giovane si sono dunque aperte le porte del carcere. Ci sposiamo ora a Cossato. Situazione drammatica per i comuni. In 16 mesi il governo modifica 18 volte la legge finanziaria mettendo in condizioni di non poter creare un bilancio preventivo realistico. E questo è quanto è stato denunciato questa mattina in conferenza stanca anche dal sindaco della città di Cossato. Vediamo i particolari. Ce li spiega Marco Funcheris. Siamo a Cossato, conferenza stampa per la presentazione del bilancio di previsione 2013. Cossato è uno dei primi cittadini, paesi del biellese che chiude appunto il bilancio di previsione. Questo è una necessità operativa con noi l'assessore alle finanze Carlo Furno Marchese. Sì, il bilancio che io chiamo bilancio di previsione su un bilancio di previsione perché qui purtroppo non sappiamo ancora niente di quello che succederà. Lo Stato, l'Imu non ci ha dato una risposta, l'IVA è lì che a legge in aria speriamo che non la mettono, i trasferimenti non sappiamo bene quali sono. Quindi abbiamo cercato di preparare un bilancio più realistico possibile in attesa di tutti i dati definitivi entro settembre. In effetti lo Stato aveva detto che il bilancio si poteva fare entro il 30 settembre. L'abbiamo fatto prima perché non si poteva più andare avanti a dividere in dodicesimi gli importi dell'anno precedente del bilancio e anche perché li stavamo facendo senza i tagli che abbiamo visto che lo Stato sta preparando. Ecco con noi anche il sindaco Claudio Corradino, un'Italia che è un'organizzazione disorganizzata possiamo chiamarla perché è sempre più difficile per gli amministratori pubblici riuscire a gestire la finanza pubblica in modo concreto e dare delle risposte ai cittadini che tra l'altro sono tra i più tassati del mondo. Assolutamente sì perché lo ricordavo prima 18 mesi 16 modifiche della legge finanziaria quindi 16 volte i nostri comuni, i nostri amministratori, i nostri tecnici hanno dovuto intervenire per il bilancio. È un paese che nel caos non si capisce più chi fa che cosa e bisogna che si venga messo ordine province, comuni cioè si prenda una decisione per favore perché diventa sempre più difficile. Noi siamo riusciti a fare un mezzo miracolo perché abbiamo mantenuto le tariffe ai minimi e abbiamo contenuto anche la spesa dell'immondizia grazie anche al nuovo sistema, grazie alla collaborazione dei cittadini costatesi. Noi non aumentiamo a discapito tutti quelli che avevano criticato questo sistema, noi non aumenteremo la tariffa anzi ci sarà un leggerissimo calo per quanto riguarda il Comune. Purtroppo la Tares, una parte in cui noi non centriamo nulla che è un'aggiunta che fa il Governo, inciderà su questa bolletta ma non siamo noi ad aver fatto questo aumento. Anche queste cose, non c'è chiarezza, il Governo non ci dice se la Tares la conferma o se non la conferma, abbiamo fatto un bilancio che, come ha detto il Carlo, giustamente è una previsione sulla previsione, sono sicuro che comunque sarà utile per proseguire, l'abbiamo dovuto fare per forza perché non avremmo potuto diversamente proseguire nell'azione amministrativa, speriamo soltanto che lo Stato ci dica con chiarezza quanto ci taglia in modo da poterlo chiudere definitivamente entro il mese di settembre anche le variazioni di bilancio. E questo argomento sarà ancora l'approfondimento di oggi del telegiornale, subito dopo la sigla di chiusura. Torniamo a Biella, la giunta del sindaco Gentile ha deciso il rifacimento di Piazza Duomo. Vi vediamo i particolari, Elena Lovero. È stato approvato in giunta nel pomeriggio di lunedì il rifacimento di Piazza Duomo a Biella. Molto soddisfatto il sindaco Dino Gentile che infatti ha detto che fin dall'inizio del suo mandato una delle sue priorità è stato proprio il rifacimento di questa piazza, nodo religioso della città e la conseguenza ricerca dei fondi necessari a svolgere i lavori. Il progetto è molto interessato e sarà finanziato dalla Presidenza dei Ministri. Inizialmente si era pensato di eliminare tutti i ciottoli che non sono ben saldi sul terreno ma appoggiati e sostituirli con un lastricato. Poi si è trovata una via di mezzo grazie a un architetto di Torino di origini biellesi che ha deciso di creare un ciottolato che andrà a partire dalla chiesa fino alla fontana e anche un ciottolato che partirà dal battistero sempre fino alla fontana con un movimento che ricorderà il proprio il movimento dell'acqua. Poi tutta la parte della casa parrocchiale e il resto della piazza sarà pavimentato con un lastricato. A questo punto bisognerà anche rivedere la viabilità della zona e della via Duomo alla fine dei lavori. La tutela dei lavoratori dovrebbe essere una priorità di tutte le aziende ed ecco che Amni Labiella dà vita ad un bando per riconoscere un premio alle imprese della provincia che si siano distinte nel tutelare la sicurezza dei loro lavoratori. Essere un'azienda sicura per chi lavora vale ben più di un premio ma intanto l'Amni Labiella vuole attribuire alle aziende un riconoscimento e lo fa attraverso un bando. Il premio sarà consegnato il 12 dicembre durante un convegno organizzato proprio dall'Amni nella sala convegni della fondazione Cassa di Risparmio di Biella. Abbiamo sentito il presidente di Amni, il Piero Ramella. Amni ha voluto organizzarsi per premiare le aziende che ottemperano le leggi relative alla sicurezza sul lavoro e non solo, anche a chi dà l'opportunità a lavoratori con disabilità di potersi reintrodurre, di potersi occupare di uno stage, di un tirocino all'interno dell'azienda per potersi riciclare, per poter riprendere in mano una vita spezzata da un infortunio sul lavoro. Proprio per questo, da un'idea nata da un consigliere dell'Amni il Biella, Salvatore Calefato, abbiamo voluto realizzare questo bando, aziende sicure, e attraverso un aiuto preziosissimo della dottoressa Marica Cerrone, ex dirigente INAIL di Biella, abbiamo dato vita a questo bando aziende sicure. Il bando si rivolge a tutte le aziende che vogliono partecipare in modo libero, tranquillo, sereno, anche perché nessun ente di controllo è stato coinvolto in questo bando, proprio per dare la certezza all'azienda di poter lavorare in piena autonomia, in piena libertà. Il progetto, seguito da Marica Cerrone, sfocia in questa presentazione di questo bando che avrà come termine ultimo di iscrizione il 15 settembre. E poi il 12 dicembre verrà fatta una premiazione nella quale una giuria composta da diverse figure, tra cui un altro nostro socio onorario, l'Avvocato Squillario, il dottor Ceffa, il dottor Penna dell'ACLI e il dottor Ceffa del sindaco di Bioglio, altro comune a noi associato, giudicheranno le aziende che hanno partecipato e premieranno con una targa puramente simbolica a livello morale l'azienda che sarà più meritevole di avere questo premio. Importante è l'attività svolta all'interno dell'associazione attraverso altre figure che sono il vicepresidente Mauro Lora Moretto e il segretario Massimo Gallotto, segretario generale Deus Machina un po' dell'associazione. Il pane, l'alimento per eccellenza nella nostra tradizione, ora sarà tutelato da una legge regionale. La legge regionale tutela i panificatori, cioè coloro che producono e vendono pane. Siamo in una panetteria qui in Piazza Curial e appunto abbiamo con noi una panificatrice. Il pane, come sappiamo, è un componente di eccellenza della nostra alimentazione, anche se è diminuito. È vero che è diminuito il consumo di pane? A noi nei negozi personalmente non è diminuito. Io ne ho due, uno in via Pietromicca e uno in Piazza Curia, non è diminuito, però nelle rivendite ai piccoli supermercanti a cui lo portiamo è diminuito molto. Causa dell'apertura dei discount che lo vendono a prezzo basso, è scadente chiaramente. Questa legge che tutelerà la qualità del pane da voi prodotto, come la trova? Ben venga, era ora. Proprio sono contenta, perché la gente non sa quello che compra nei discount. Sì, lo trova a prezzo basso, ma per fare il pane è a dei costi, se no la qualità non esiste. Ma non solo come qualità di gusto, ma anche come qualità della salute? Certo, certo, certo. Io non so adesso il pane che arriva ai discount come possa essere, però come qualità della salute è importante. Poi, senta, verranno anche tutelati i panificatori, non saranno più degli artigiani generici, ma artigiani particolari. Come si sente essere coinvolta in questa nuova classe? Siamo contenti, anche se il pane non lo faccio io, lo fa mio marito, sarà ben contento della cosa. Una conferenza stampa molto partecipata è stata occasione anche per la sezione della Lilt di Biella di presentare uno spot televisivo in onda sulla nostra emittente, che tratta un tema poco amato dagli italiani, i lasciti testamentari. La Lilt di Biella ha presentato in conferenza stampa il nuovo spot televisivo in onda sulla nostra emittente e sul web, che si propone di trattare un tema assai poco gradito agli italiani, statistiche alla mano. Tramite i lasciti testamentari, infatti, una parte dei beni o dei denari del defunto vengono devoluti a enti no profit come Lilt, che li destinano a progetti di utilità pubblica. Proprio un importante lascito ha fatto sì che partisse la costruzione di Spazio Lilt, il nuovo centro di riabilitazione oncologica che sta crescendo in Vievre e a Biella. Lo spot, realizzato da uno staff di professionisti con lavoro volontario, riporta uno scorcio di vita familiare, dove i nonni raccontano di aver lasciato a Lilt una parte dei loro averi per garantire un futuro più sereno ai loro figli e al loro nipotino. La regia è firmata da Andrea Valentini, mentre il direttore creativo è Claudio Mondelli. Tra il cast dello spot sono protagonisti la nonna, interpretata da Adriana Rinaldi di Stalker Teatro, mentre il GPIN Carlo Serra veste i panni del nonno. La campagna lasciti ha ricevuto inoltre il patrocino del Consiglio Nazionale del Notariato ed è stata realizzata con l'aiuto di numerose aziende biellesi che hanno messo a disposizione locali e attrezzature gratuitamente. Nonna, gli metto io i piatti. Grazie, tesoro. Alcuni anni fa sono andata alla Lega Contro i Tumori per una visita di prevenzione ed è grazie a quella visita, se oggi siamo ancora tutti insieme. Per questo mia moglie ed io abbiamo deciso di fare un lascito a Lilt Biella. Una scelta che regalerà un futuro sereno a tante famiglie come la nostra. Nonni, nonni, c'è la torta. Con un lascito a Lilt Biella proteggi il presente e garantisci il futuro di chi ami. Anche il tuo lascito può fare la differenza. Verrone ha vissuto due giorni a corte in un castello dagli antichi e novelli sapori. Quest'anno sono tantissime, in primis la presenza di tutte queste bancarelle di street food, associazione nazionale di ristoratori. Infatti sono presenti nella nostra corte del castello diversi ristoratori di diverse rappresentanze di regioni italiane. Altra grande novità, i musicisti di strada. Oggi sono stati fatti dei laboratori per bambini a cura di un gruppo di vichinghi. Anche domani i vichinghi aspetteranno bambini per costruire insieme armi medievali e fingere combattimenti. L'appuntamento estivo serale torna a Sordevole dopo il grande concerto con Morricone. Questa sera alle 21.30 nell'Anfiteatro di Sordevolo il 3.0 Festival organizzato da Comune con Studio P3 di Milano propone 50 sfumature di Pintus. Il comico triestino lo vedete nelle immagini. Ancora parliamo di sport, noi ci siamo. Con la campagna abbonamenti 2013-2014 inizia la nuova avventura di pallacanestrobiella ai nastri di partenza del nuovo campionato di Lega Nazionale. La campagna abbonamenti si apre dunque oggi e prevede un periodo di prelazione per gli abbonati di 20 giorni, dunque fino a martedì 30 luglio. Le principali novità della campagna abbonamenti riguardano la riorganizzazione dei settori numerati con il primo anello sia blu che rosso i quali manterranno la numerazione. Rimangono inalterati anche i vantaggi per le famiglie con gli sconti applicati ai gruppi familiari. E con la sport è tutto per questa edizione che possete trovare anche sul sito www.retebiella.tv Grazie a tutti per averci seguito e buon pomeriggio. Grazie a tutti.